bentornati sul mio canale in questo video parliamo della differenza tra i permessi di trading e i dati di mercato allora nel caso dei permessi di trading e specialmente all'inizio il caso in cui io metto dei sottostanti qui vado sopra provo ad operare su questi mercati e non mi dà acquista e vendi ma mi dice che non ho i permessi di trading per operare chiaramente in questo momento io la trader wall station ce l'ho attiva quindi non mi dà questo bug non mi dà alcun segnale perché i permessi li ho come li ho attivati vado qui su conto vado su impostazione permessi di trading su impostazione permessi di trading vi dovete diciamo seguire tutte le le richieste che dal sito direttamente vi fanno sarebbe a dire quali sono i tipi di trading che vorrai di sottostanti che vorrai su cui vorrai operare e ti viene richiesto quanti anni di esperienza e quanti eseguiti anni quanti eseguiti all'anno fai su questi mercati e poi ti danno metterai tu aggiungi aggiungi ad esempio quali sono i mercati su cui puoi avere i permessi di trading se non attivi questa cosa qui non si inizierà mai a fare non inizierai mai a fare trading e ad esempio non faccio trading sull'italia ma potrei mettere italia e fare aggiorna in questo momento io ho trovato quello che mi interessa che sono le azioni le opzioni non attivo le obbligazioni perché non le ho i future le opzioni sui future alcuni cfd e il forex questo che cosa ci comporta abbiamo praticamente detto eb qual è la nostra esperienza quanti eseguiti normalmente facciamo e l'esperienza che abbiamo ci dà l'autorizzazione qui facciamo avanti a poter lavorare sugli strumenti anche più complessi è chiaro che se entro con un conto molto piccolo dico che non ho mai fatto nulla che difficilmente b mi darà l'abilitazione a lavorare sui future oppure lavorare in strumenti diciamo derivati più complicati andiamo su avanti io diciamo conoscenza elevata di questi strumenti perché li uso da molto andiamo su avanti la richiesta dei permessi di trading normalmente dopo 48 ore vi dà la possibilità di lavorare su tutti gli strumenti di cui voi avete richiesto i permessi ecco diamo l'ok e dobbiamo in questo caso aspettare che ibc dia l'autorizzazione a lavorare ipotizziamo di aver passato le 48 ore abbiamo avuto i permessi di trading per i nostri ad esempio questi sono dei future sulle materie prime sulle carni e sul natural gas abbiamo quando abbiamo i permessi vediamo che questi quadratini sottultimo e l'ultimo prezzo contrattato sono rossi o verdi nel caso in cui abbiamo il quadratino giallo invece sono altre situazioni per questo dax ad esempio per questo in particolare io non ho i permessi e diciamo non ho richiesto i permessi di trading posso fare il posso usarlo fare comunque un acquisto una vendita no perché non ho richiesto i permessi di trading e questo quadratino giallo comunque mi sta a dire che ho dei dati differiti perché non ho non pago per avere i dati la differenza tra avere i permessi di trading e i dati è che io potrei avere il permesso ma non voglio pagare la diciamo la possibilità di avere i dati direttamente in questi dati sono riferiti di circa 20 minuti quando vedete anche tra bid e ask vedete questi quadratini gialli vuol dire che per questo mercato non avete in questo momento i dati ma li avete solamente differiti quindi ci appare si prega di accedere al portale di clienti con un nome utente del conto principale per modificare i dati di mercato come faccio a vedere a attivare questi dati di mercato quindi vado di nuovo su conto e vado su sottoscrizioni dati di mercato clicco qui allora come consiglio come si configurano i dati di mercato dovete sapere chi dati differiti quindi li avete in in modo gratuito cioè potete vedere quello che è successo 20 minuti prima in modo gratuito questo pulsante qui ogni tanto trovate su quando non avete i dati ed è carino perché vi costa un centesimo fare una cosa che vi faccio vedere ora un centesimo tre centesimi dipende da quale è il diciamo il mercato che che volete fare se voi andate su uno su uno dei sottostanti ad esempio il dax io non ho i dati di mercato ma se volessi avere un istantanea questo qua vi ricordate mi dice che i dati sono differiti ma se volessi avere un istantanea di attualmente cosa sta facendo il bid e ask del dax clicco su questo su simbolo e avrò il diciamo il dato istantaneo in quel momento e mi costa un centesimo fare questa questa cosa quindi ecco la svelato cos'è quel quel quadratino che vediamo quel circoletto che vediamo ogni tanto mentre per abbonarsi quindi i dati di mercato che dicevamo ci sono le varie nord america sud america quello che volete attivare io ad esempio ho attivato nord america e ho attivato gli abbonamenti che che mi interessavano in questo momento comunque tutto diciamo il tempo reale del nice e dell'amex e tutte le opzioni americane mi costa 4 dollari 50 per chi voglia voglia fare le opzioni in più normalmente si hanno attivati questo qui a 10 dollari che è comunque uguale tutte le quotazioni del mercato americano dell'S&P 500 e anche il future del CME e tutto il Dow Jones comunque insomma tutte le maggior parte dei listini americani poi avete altri indici altre cose vi andate a curiosare Canada Messico tutto quello che volete perché chiaramente qua siamo nel comparto che è nord america interessante sapere quanto ci costa questa piattaforma ci costa avere i dati da questa piattaforma ci costa 10 euro al mese in questo caso più 4 euro e 50 ma se le vostre commissioni nel mese saranno sopra i 30 dollari diciamo che questi 10 dollari vi vanno a sparire ora qui ho messo un po' dei casi particolari ti fiuscio sullo zucchero sul cacao sul caffè e sul zucchero bianco sul crude oil questi qui hanno altri mercati non ho i dati per questi per mettere i per capire dove devo andare a cercare i dati faccio inserisci colonna borza così riesco a capire dove questi dati dovrei andarli a prendere in questo caso andiamo a vedere proprio questi in particolare quindi sempre su sottoscrizioni dati di mercato nord america se andiamo sul livello 2 di book e andiamo giù ci troviamo questi mercati che ci servono allora l'ice e il nibot praticamente per comprare questo pacchetto di dati ci costa 120 euro al mese diciamo che la maggior parte di noi fa anche diciamo operazioni su questi future non attiverà sicuramente un costo di 120 euro al mese e questo era un po quello che premeva farvi vedere quindi dove avessi tutti quanti questi rombetti gialli vuol dire che non ho attivato nessun dato di mercato andate su conto e andate a fare le sottoscrizioni di dati di mercato che vi preme senza spendere una cifra esorbitante se proprio invece non riuscite a fare alcuna operazione vuol dire che ancora non hai fatto i permessi di trading se invece i quadratini li vedrete in colore chiaro e non si muove nulla ma e quindi siete in un orario di trading non è diciamo l'orario di trading siete fuori dell'orario di trading come si fa a vedere l'orario di trading andate comunque su una delle linee che volete vedere tasto destro andati su info sullo strumento descrizione e vi dice l'orario di trading quindi è per l'europa centrale quindi italia 15 30 20 0 5 questo è in particolare un fiuccio sulle carni in linux questi quadratini quando sono invece rosso e verde questo qua indica il fatto che se siamo a rialzo o a ribasso in quel momento in cui stiamo vedendo questa situazione come vedete questi cambiano quindi può essere rosso in questo momento ci sono più venditori e quando è in verde invece c'è una spinta più a risalire i costi della piattaforma non sono tutti nei dati diciamo nel pre nel costo che i bici chiede per i dati di mercato ma sono anche nelle commissioni quindi se apriamo il nostro registro eseguiti possiamo aprirlo per quanti giorni vogliamo e qui abbiamo commissioni sappiamo per ogni contratto per ogni seguito che abbiamo avuto quanto sono i costi delle nostre commissioni spero che per quanto riguarda i permessi di trading e dati di mercato andiate un pochino a curiosare quello che che vi interessa di più il tipo di trading che vi piace fare e capiate insomma che questa piattaforma è sicuramente una delle meno costose vogliamo dirla così anche perché se siete comunque cattivi e se fate commissioni già solamente 10 euro del costo della maggior parte dei dati che sono se lavorate su diciamo dei sottostanti americani vi vanno diciamo vi vanno scontati se spendete almeno 30 euro se usate almeno 30 euro di commissione al mese il video come solito è solo per mettervi curiosità non vincita a aprire o chiudere o fare diciamo a mettere costi ulteriori al vostro trading ma più che altro mi piacerebbe anche nei commenti sapere se vi è stato utile che cosa altre domande se vi sono venute in mente altre cose da chiedermi come al solito vi ringrazio e buon divertimento gofirst goô e goô goô punto.